Cibos 2010, ci siamo spostati nello stand della Bauer, azienda trentina e siamo in compagnia di Marco Ariodante che è il nuovo direttore vendite. Di cosa si occupa Bauer? Bauer è un'azienda che è presente sul mercato ormai da circa 80 anni, quindi dagli anni 30 si è specializzata in prodotti insaporitori e prodotti preparati per brodo a base totalmente naturale, quindi di base è un prodotto senza aggiunta di glutammato monosodico che tutti sappiamo che di fatto è alla base dei dadi in generale, quindi Bauer si distingue in questo senso per essere un prodotto totalmente naturale, ma non solo perché non utilizza il glutammato monosodico come insaporitore, ma perché utilizza tutta una base di prodotti naturali, di estratti di prima qualità, non vi sono presenti per esempio grassi idrogenati, ma la cosa più importante è che è assente di glutine e quindi è un prodotto per esempio che è ideale per i celiaci e per chi ha delle allergie alimentari in generale. Noi ci rivolgiamo soprattutto ad un pubblico, ad un ascoltatore che è il ristoratore, voi vi siete affacciati da poco e state approfondendo questa cosa, in che modo e che domande avete da parte dei clienti finali quali i ristoratori? Dunque noi per la verità sul mercato del Trentino Alto Adige siamo presenti da sempre nella ristorazione, credo che quasi tutti i ristoranti o gli hotel che lavorano nella stagionalità invernale del Trentino sono i nostri utilizzatori di prodotto. Stiamo approcciando il mercato italiano per la prima volta ora perché ci siamo strutturati per arrivare anche sul mercato italiano. Quindi in questa fase noi offriamo alla ristorazione probabilmente un prodotto che in parte manca come risposta diciamo alla richiesta del consumatore finale che è quella di avere appunto anche nella ristorazione un prodotto totalmente naturale.